A discutere con l'intera giunta, abbiamo detto, perché è un problema dell'intera giunta, non solo dell'assessorato all'agricoltura, su come disegneremo la forestazione del domani. E abbiamo anche riparito che non vogliamo più incontri dove c'è anche il gatto, dove c'è la regione, le organizzazioni sindacali, l'UNCEM e tutto il resto. Ma un incontro con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, che stabilito poi il punto, con questo punto ci si confronta anche con tutti gli altri. Abbiamo anche riparito che fino a questo momento la gestione del demanio forestale con le unioni dei comuni, pur avendo anche qualche punta buona, generalmente è stato un disastro. Il punto è, ci sarà un futuro per la forestazione e noi lottiamo perché ci sia un futuro per la forestazione. Ma ci interessa sapere anche in che modo questo futuro si materializzerà. Perché se non disegniamo bene il modo con cui questo futuro si materializzerà, l'anno prossimo, anzi qualche mese prima, si sarà qui un'altra volta senza un problema risolto. Serviamolo a futura memoria. Che quando la categoria tutta intera si mobilita come si è mobilizzata oggi, non dico che si riesce a spostare le pietre, ma quasi. E di questo credo che tutti noi dobbiamo essere molto soddisfatti.